Un esperto reale ha affermato che il principe Ferry probabilmente lotterà o l'incoronazione del re senza Meghan Markle al suo fianco. Il principe Ferry non esiste davvero senza Meghan Markle, ha suggerito l'esperta reale e autrice Tom Quinn. Ferry si recherà nel Regno Unito questa settimana per l'incoronazione del re, con Meghan che decide di rimanere negli Stati Uniti con i due figli della coppia, Archie e Lilybe. Il signor Quinn ha notato che la partecipazione di Ferry allo storico evento, e il ricongiungimento con la famiglia reale, saranno probabilmente molto imbarazzanti, in particolare perché parteciperà da solo. Il signor Quinn, che è l'autore di Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, ha dichiarato a Express, non esiste più senza Meghan. Quello che era Ferry prima di Meghan, è tutto finito. La sparatoria al fagiano, il travestimento da nazista, il non essere interessato a tutte le cose che le piacciono è tutto scomparso. Il signor Quinn ha poi continuato a speculare su come il principe Ferry troverà l'incoronazione, e come probabilmente si sentirà. Ha detto, si sentirà molto isolato senza la persona che lo trasforma in quello che è veramente. Stare da solo, sarà molto difficile. Ha anche aggiunto che l'evento sarà imbarazzante anche per Ferry, con gli osservatori reali, che probabilmente noteranno quell'imbarazzo. Il signor Quinn ha quindi suggerito che potrebbe esserci uno scambio brusco tra Ferry e i reali, in particolare il principe William. Ha detto, nella migliore delle ipotesi, ci sarà un breve cenno del capo tra William, in particolare, e Ferry. Quindi non andrà bene. La migliore delle ipotesi, ci sarà un breve cenno del capo tra Ferry e i reali. La migliore delle ipotesi, ci sarà un breve cenno del capo tra Ferry e i reali.